Un paragone con la vestaglia nuova di Riderot, che obbligò il filosofo francese a riammodernare il proprio guardaroba, intendendo con la metafora rinnovare quello che non va nelle istituzioni. Così si è presentato Giuseppe Fortunato, nuovo difensore civico della regione Campania, insediatosi dopo una battaglia legale lunga otto anni, portata avanti per far valere i suoi titoli nella scelta della nomina, una battaglia che nelle sue parole lo rende ancora più vicino ai cittadini che si rivolgono al difensore civico per dirimere le controversie con le amministrazioni pubbliche. Tra i suoi primi provvedimenti una diffida ai oltre 500 comuni campani per chiedere la messa in pratica delle nuove normative europee sulla privacy e un invito alle pari opportunità e alla lotta alle discriminazioni. Comprendere innanzitutto che io sono il secondo difensore civico, cioè ciascun cittadino deve essere il primo difensore civico, deve essere lui che non deve essere insensibile, freddo o addirittura anestesizzato rispetto alle ingiustizie, deve segnalare con forza qualunque forma di ingiustizia. A questo punto il difensore civico è l'amico istituzionale, è l'aiutante, è anche il combattente in qualche caso, è colui che lo aiuta a fare sì che il potere pubblico gli dia quello che gli spetta. Omissioni molte volte avvengono nella pubblica amministrazione, semplici silenzi che sono snervanti di apparati pubblici che non rispondono, abusi, negligenze, inefficienze. Il cittadino deve essere consapevole che portando il contributo anche nei confronti dell'ingiustizia che lui ha subito, porta un contributo complessivo affinché l'intero apparato pubblico sia, come dice la nostra Costituzione, al servizio di col popolo sovrano.